Eccolo qua, il classico scambio di gennaio tra squadre italiane, indirittura d'arrivo l'affare Politano-Spinazzola. Ciao ragazzi e ben tornati in questo nuovo video in cui volevo parlarvi di una notizia che tutti stanno dando per certa e quindi io ve la riporto come tale, però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un iscritto nel canale e come sempre vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram in cui probabilmente uscirà un post interamente dedicato a questa trattativa tra due colossi, vogliamo definire così, del calcio italiano. Diciamo che questo scambio accontenta tutti e non accontenta nessuno allo stesso tempo perché se voi doveste chiedere ad un interista o a un romanista cosa lui ne pensi dell'affare nessuno dirà mai sono contento o sono dispiaciuto, ma tutti cercheranno di dire sì ma no però perché non c'è una risposta esatta alla domanda in questa trattativa chi ci ha guadagnato perché entrambe le squadre avevano bisogno del giocatore che si sono prese. La Roma aveva bisogno di un esterno dopo l'infortunio di Zagnolo che ultimamente sta ricoprendo proprio il ruolo di esterno destro mentre l'Inter necessitava di avere un terzino che potesse svolgere in modo buono il lavoro su entrambe le fasce. Stava cercando uno come Young, alla fine per me Spinazzola è anche meglio di Young, così come Spinazzola è anche più forte di Politano. Dov'è il problema? Spinazzola per me è fatto di carta, non per me. Spinazzola è fatto di carta e quindi per me andava ceduto perché ragazzi su tre partite due ne salta per infortunio. E la Roma in questo momento della stagione in cui mancano sei mesi al termine di questa e quindi deve ancora raggiungere tutti gli obiettivi, deve andare avanti in Europa League e in Coppa Italia facendo tutti gli scongiuti del caso. Deve arrivare in Champions, in campionato, non può permettersi di pagare un ingaggio così alto ma soprattutto non può permettersi di dover avere in rosa un giocatore che nel 90% dei casi è inutilizzabile. Per me questo non va bene. Poi ovvio ragazzi Spinazzola è un grande giocatore e molto bravo ma la Roma sapeva benissimo che avesse tutti questi problemi muscolari ma anche un po' al ginocchio quindi per me come mi dissi queste strade sarebbe stato meglio tenersi Luca Pellegrini che è un grande per lo spettro del calcio italiano, poteva andare a riprendere per il video. Poi ovvio che Spinazzola è un buon giocatore che deve giocare alla Roma però se fosse mai stato in condizione di farlo perché ragazzi anche quando giocava spesso e volentieri uscivano al campo per infortunio quindi alla fine io sono abbastanza soddisfatto dell'affare perché Politano è un giocatore che ci serve ed è un giocatore che all'interno non è che non giochi perché sia scarso non gioca per una incompatibilità tattica con Conte perché Conte gioca con gli esterni di centrocampo che sono praticamente terzini o comunque esterni che sanno difendere molto bene come Candreva Politano non è uno di questi e quindi quando ha giocato quelle rare volte ha giocato in attacco ma in attacco ha davanti due colossi quindi è ovvio che non giochi mai perché davanti ci sono due fenomeni non puoi giocare, c'è veramente poco spazio per te e quindi io sono contento di Politano che non dovrà riadattarsi completamente all'ambiente perché comunque lui è cresciuto nel giovanile della Roma ed è cresciuto a Roma quindi io sono contento di riaverlo qua vedremo un po' come si svilupperà il mercato se questo affare alla fine andrà definitivamente in porto però io do un 7, ovvio, la Roma ha sbagliato quest'estate e ammette il fallimento della trattativa Pellegrini-Spinazzola però sentite ragazzi, gli intelligenti si ammettono e si accorgono di aver sbagliato e cambiano subito questa ragazzi è stata un'operazione che andava colta poi ovvio, io sono d'accordo sul fatto che Spinazzola fosse più forte di Politano già ve l'ho detto, però lo ribadisco perché non voglio che questo concetto venga tralasciato Spinazzola è più forte ma in questo momento la Roma doveva prendere Politano il video che vi ringrazio per averlo visto vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e una iscrizione al canale ciao a tutti